Radio Radicale, siamo con l'onorevole nuovo Umberto Maerna di Fratelli Italia per parlare con lui delle tensioni che ci sono nella maggioranza dopo il voto sulla Wonderland che abbiamo visto si stanno ripercuotendo anche sul governo perché ieri c'è stata una discussione sul DDL concorrenza e sono emerse delle tensioni. Allora che cosa sta succedendo se lei dovesse fotografare questo particolare momento? Che cosa potrebbe dire? Ma io ho visto nei decenni che faccio politica ho visto nascere il Polo della Libertà, la Casa della Libertà, il PDL, l'unione delle tre forze, quattro forze centrodestra, sono stati periodi in cui ci sono state, non le chiamerei neanche tensioni, piccole divergenze, non voglio sminuire, però anche in questo caso sono normali discussioni ma quando siamo in Parlamento o c'è da votare provvedimenti essenziali per la nazione siamo il centro-est assolutamente unito. Quindi non vedo questo, non è un problema, lo ritengo fisiologico. Siamo tre forze politiche con basi culturali distinte, che siamo insieme su un programma, sosteniamo tutti Giorgia Meloni e quindi può capitare che su qualche argomento, però con tipo quello della Commissione, però non vedo drammi o ripercussioni sul governo nel modo più assoluto, anzi, proprio nel momento in cui bisogna approvare decretti in scadenza essenziali per la nazione. Ritiene che comunque l'atteggiamento della Lega, diciamo, abbia chiesto, nel suo atteggiamento la Lega abbia chiesto conto a Forza Italia dell'appoggio data alla von der Leyen. Ritiene che questo sia un po' innaturale, perché per esempio quando nel 1994 la Lega non votò la Commissione Santerre, si andò avanti, però nessuno rinfacciò gli altri gruppi parlamentari le scelte che erano state fatte. Ma sì, voglio dire anche questo, magari qualche eccesso, ho letto, no? Accusate di aver votato con... Io non l'avrei fatto, infatti il mio partito per fortuna non ha votato la von der Leyen, così la pensiamo, però anche qui non drammatizzerei, sembra che ogni volta che c'è una discussione o qualcosa o siano tutti lì a guardare il capello in due, non si spacca il capello in due su una discussione, ci sta, è fisiologico, fine del punto. L'ideale concorrenza ha necessità di approfondimenti, sia dal punto di vista finanziario che normativo, fine, andrà nel prossimo Consiglio dei Ministri. Non vedo davvero problemi, non lo dico per sminuire, lo vedo, lo percepisco anche qui. In più, noi abbiamo in questo momento, c'è un grande consenso su Giorgio Meloni e sul governo, per cui tutte le forze politiche, a partire dalla mia, che ha più responsabilità, perché è più grande, e al Presidente del Consiglio, ma vale anche per le altre, Lega, Forza Italia, noi moderati, eccetera, dobbiamo avere un senso di responsabilità totale, perché la gente apprezza quello che facciamo, il consenso ce l'abbiamo, ma si aspettano anche molto da noi. Lui non c'è tempo da perdere in piccolezze, ecco questo io penso. Crede che questo si tradurrà però anche in una perdita di peso nel governo europeo, quello della Commissione europea, perché noi abbiamo visto che ci sono provvedimenti importanti, direttive quella sulla casa, quella sull'auto elettrica. Allora, se manca un peso adeguato in Europa, c'è il rischio, non so, di perdere peso politico, o comunque di appellarsi a Forza Italia per cercare di sbroccare? Ma io non la vedo così. Io penso che quando un partito, un governo, una nazione, io parlo di nazione, perché in Europa andiamo come Italia, quando una nazione ha un peso dovuto a un governo stabile, un governo eletto del popolo, un governo che ha il consenso, e qualcosa l'abbiamo portato a casa dell'Europa sinora, senza essere nei vari consensi. Quindi è l'autorevolezza che hai, più che un posto, magari in una maggioranza, in cui sei considerato, i tuoi temi non sono quelli della maggioranza, molto meglio essere coerenti, decisi e portare avanti le istanze che abbiamo. Io non sono preoccupato per questo. L'Europa non può fare a meno dell'Italia. Come fanno? Cosa fanno? Sarebbe davvero un controsenso. Che differenza c'è tra il vostro atteggiamento, che è un atteggiamento più pagato, più pragmatico, e quello della Lega, che insomma abbiamo visto, ci ha abituato a parecchie sorprese, il DDL al Senato che poi hanno ritirato sui nomi femminili. Guardi, allora, a volte per esprimere qualcosa che può avere una fondatezza e essere giusto, se usano modi sbagliati. Quindi l'attenzione va sui modi e non sul tema. Per cui abbiamo certo modalità un po' diverse, sensibilità diverse, che a volte provano qualche, neanche un disagio, qualche così. È ovvio che la stampa poi si attacca a quello, però anche qui non vedo, sono tone diverse, sensibilità diverse, anche sui temi, sui vari temi, che è normale in una coalizione, non siamo un partito unico. Questo è il punto. Bene, io la ringrazio, ringrazio l'onorevole Novo Umberto Maerna di Fratelli Italia, con il quale abbiamo parlato di quello che sta succedendo nella maggioranza e anche un po' nel governo. Grazie. Grazie a voi, grazie a Radio Radicale. Grazie.